L'Avis Montevarchi ha in programma due giornate particolari, una il 25 maggio e l'altra il 15 giugno prossimo. Il 25 maggio noi faremo la consegna delle beneverenze ai donatori che hanno raggiunto un certo numero di donazioni ed è un piccolo attestato di riconoscenza nei confronti di coloro che fanno questa attività di volontariato. Si svolgerà alle ore 16 nei saloni della Bartolea a Montevarchi, alla fine della cerimonia ci sarà un rinfresco aperto a tutti i donatori. Invece sabato 15 giugno ci sarà la 68esima festa sociale dell'Avis, la tradizionale festa che viene svolta tutti gli anni. Quest'anno la fetteremo nella chiesa del Pestello di Montevarchi alle ore 17.30. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti prossimi, futuri dell'Avis Montevarchi. Per quanto riguarda invece l'anno appena concluso, il 2018, qual è il bilancio che si può fare? Nel 2018 abbiamo fatto 2.604 donazioni superando di circa 10 unità quelle dell'anno precedente per cui per noi è un traguardo molto importante. Ovviamente sono tutti i donatori che hanno fatto sì di raggiungere questi traguardi che sono veramente prestigiosi. Inoltre l'attività dell'Avis si è svolta anche nella ricerca di nuovi donatori e i nuovi donatori nell'anno 2018 sono stati 121.